we bella a tutti ragazzi e benvenuti al terzo video di oggi io sono xyuder e volevo parlarvi di una cosa veramente incredibile ragazzi sì perché da pochi minuti è uscito un comunicato ufficiale nelle notizie di fortnite che dice la possibilità di avere una copertura in regalo per le armi e per i veicoli ragazzi prima di farvela vedere volevo ringraziare ovviamente tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro supporto mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notizia sui video delle news e dei leaks e andiamo allora proprio direttamente ragazzi nella pagina ufficiale delle news di fortnite che tra l'altro trovate anche aggiornata proprio in game e come vedete c'è una nuova collaborazione del software house party una client di messaggistica che in questo momento sta andando veramente tantissimo che se scaricate sul vostro dispositivo ios oppure android potete insomma rispondere insieme a tutta la community di fortnite a un totale di 20 mila o 20 milioni non ricordo di domande ogni domanda esatta darà un punto in più e al raggiungimento della soglia tutti otterremo la nuova mimetica andiamo un attimo a leggere proprio direttamente dal sito hai dimostrato quanto vali in fortnite ora sfoggia quanto sai su fortnite gioca nuovo mazzo quiz di fortnite nell'app di house party e metti alla prova le tue conoscenze di fortnite insieme ai tuoi amici collaborate su house party per superare la nostra sfida quiz della community rispondete correttamente a 20 milioni di domande per sbloccare la copertura fiamme triangolari per tutti i giocatori di fortnite ovviamente inizia il 10 aprile alle 17 quindi è già iniziata e termina il 17 aprile alle 5 del mattino quindi ragazzi per iniziare scarica house party c'è direttamente il link che potete comodamente aprire con il vostro dispositivo rispondete alle domande e dagli e raga dagli e che ci portiamo a casa un'altra copertura io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi ai miei canali ea me mi trovate domani mattina alle 8 in live su twitch ciao